vi sono momenti nei quali la mente ha bisogno di evasione quell'evasione che interrompe le frenetiche attività che nella nostra società sono spesso indispensabili ma allo stesso tempo logoranti ed ecco che si sceglie di isolarsi di riflettere in assoluta solitudine o anche di stare insieme ad altri per condividere momenti fuori dalla confusione per ritrovarsi raccontare e raccontarsi niente può essere paragonato alle ricchezze che tali circostanze fanno confluire nell'animo e allora ben vengano occasioni dove si socializza si sta insieme magari inserendo in questi contesti anche le proprie passioni come la poesia per esempio febus italia ha pensato bene di proporre con cadenza bimensile in volo oltre l'orizzonte un appuntamento nel quale dare spazio alla poesia e a suoi autori ma non solo ai reading poetici di cui il primo partirà proprio il 12 novembre prossimo potranno partecipare anche coloro che amanti della poesia desiderano trascorrere qualche istante di immersione dentro questa antica forma espressiva da sempre insita nel genere umano quale rifugio per le proprie angustie ma anche come sfogo dei propri sentimenti siano essi dolci siano essi malinconici leggere poesia è l'unico ponte che collega terre aride ad oasi e viceversa per dare luogo a quella magia chiamata emozione